Perché invece oggi parleremo anche di un altro problema di cui ci scrivete tantissimo, problemi delle mani, perché le mani lo sappiamo sono i nostri strumenti e ci consentono tutti i giorni di svolgere le principali attività quotidiane, come facciamo senza mani e quando ci fanno male, qual è il modo per risolvere i problemi? Oggi lo chiediamo al nostro ospite che è il professore Alessandro Piperno, specialista in chirurgia della mano e microchirurgia all'ospedale israelitico di Roma e grazie anche al suo paziente il signor David Cornell che gentilmente ci presterà la sua mano. Benvenuti ad entrambi. Grazie. Allora, dottore, noi oggi parliamo di problemi alla mano ma vogliamo parlare soprattutto di tunnel carpale perché tantissime nostre telespettatrici, soprattutto ma appunto anche tanti uomini, soffrono di questo problema. Che cos'è la sindrome del tunnel carpale? La sindrome del tunnel carpale è fondamentalmente una compressione del nervo mediano, che è il nervo che innerva le prime tre dita della mano e parte del quarto dito, che passa a livello di un canale, appunto il canale del carpo che sta a livello del polso. La compressione di questo nervo, che può avere numerose cause, determina la sintomatologia del tunnel carpale, quindi tutta quella serie di sintomi che poi portano il paziente dal chirurgo della mano. Allora, dottore, noi ultimamente, adesso vedremo anche delle immagini, abbiamo visto molto spesso il principe, era principe, adesso è diventato il re Carlo III d'Inghilterra e giravano delle foto del re Carlo III delle sue mani gonfie. Ecco, il fatto che siano gonfie, qualcuno lo ha ipotizzato che potesse essere un sintomo del tunnel carpale, è così e quali sono invece i sintomi, se ce ne sono più di uno? Sì, più che un sintomo può essere una causa, mi spiego. La sindrome del tunnel carpale non determina solitamente gonfiore alle mani, ma il gonfiore alle mani, essendo la causa della sindrome del tunnel carpale una compressione del nervo, il gonfiore alle mani può accentuare la compressione del nervo e quindi esacerbare o in certi casi determinare la sintomatologia della sindrome del tunnel carpale. I sintomi fondamentalmente sono quello che riferisce il paziente a un formicolio, appunto delle prime tre dita della mano e parte del quarto, prevalentemente notturno e qui torniamo al gonfiore, spesso non muovendo la mano di notte, la mano si gonfia un pochino e quindi quella compressione del nervo può accentuare. Delle parestesie, quindi alterata sensibilità a carico di queste tre dita e dolore, dolore proprio nel punto in cui il nervo è compresso. Stavamo leggendo dal cartello anche riduzione della forza? Sì, il nervo mediano innerva, e questo poi lo faremo vedere anche durante l'esame obiettivo, innerva alcuni muscoli della mano. Quando è compresso e quindi la sua funzione è ridotta per molto tempo, questi muscoli possono andare incontro a ipotrofia o in certi casi atrofia e quindi sono dei muscoli più piccoli e meno forti e quindi c'è un deficit di forza. Quindi ci sono un po' di segnali che dobbiamo cercare di capire e di afferrare subito. Ora approfitterei della presenza appunto del paziente, del signor David, per chiederle come si svolge una visita, se ci fa vedere proprio che cosa bisogna fare. Il paziente, come ho detto, viene all'attenzione del chirurgo riportando quasi sempre questi sintomi. L'esame obiettivo, prima di tutto, si deve incentrare, come ho detto, nell'osservazione della mano e, come dicevo, quel gruppo muscolare, che sono i muscoli dell'eminenza tenare, se risultano più piccoli rispetto alla mano controlaterale, già quello è un indice di una sindrome tunnel carpale già abbastanza avanzata. Dopodiché si chiede al paziente di indicare quali sono le dita nelle quali riferisce più formicolio. Si fanno fondamentalmente due test, che sono il test di Tinel, ossia chiedere al paziente di estendere il polso e battere nel punto in cui il nervo è compresso e questo dovrebbe evocare come una piccola scossa elettrica. E poi si chiede al paziente di fare un altro test che si chiama Fallen test, ossia di flettere il polso in modo tale da restringere ancora di più lo spazio nel canale e, nel caso in cui il paziente sia già affetto da una sindrome del tunnel carpale, questa posizione mantenuta per un minuto esacerberà e richiamerà quei sintomi che generalmente avvengono la notte, quindi formicolio fastidioso e perdita di sensibilità. Allora, dottore, però, a parte questi esami che lei fa durante la visita, si devono fare anche altri esami specifici? Ci sono degli esami da fare? Sì, l'esame principe che fa diagnosi di sindrome del tunnel carpale, al di là dell'esame obiettivo, è l'elettromiografia. L'elettromiografia e elettroneurografia che ci permette di valutare la conduzione del nervo, quindi l'attività elettrica del nervo, a monte e a valle del canale del carpo. Quindi ci saranno dei valori che dimostreranno che fino a prima del canale del carpo il nervo lavora ad una certa intensità, al di sotto del canale del carpo il nervo è compresso e quindi la sua conduzione elettrica sarà diminuita. E quindi è importante fare anche questo. Fondamentale. Parliamo di cure. Esistono delle cure conservative o l'unica cura possibile poi è l'intervento chirurgico? Ci sono dei trattamenti conservativi, chiaramente più indicati negli stadi iniziali di sindrome del tunnel carpale, ossia quando la compressione del nervo non è ancora così avanzata e fondamentalmente si tratta di tutori che possono essere anche tutori su misura che partono da materiale termoplastico che vengono formati proprio sulla base del paziente per essere il più facilmente indossabili possibile, che vengono mantenuti la notte e quindi mantengono il polso in posizione corretta evitando che il polso assuma delle posizioni sbagliate durante la notte e quindi diminuiscono i sintomi notturni. Ci sono degli integratori per i nervi che servono proprio a supportare il nervo nella sua funzione e degli antinfiammatori per le fasi più acute. Questo ovviamente, dottore, dipende dal grado di problema che si ha. Io adesso le leggo invece una domanda che ci ha inviato una nostra telespettatrice, la signora Franca da Verona che ci ha scritto, per il dolore del tunnel carpale meglio il ghiaccio o il calore? Grazie. Tecnicamente, questa è una bella domanda, tecnicamente il freddo, essendo una sintomatologia dovuta prevalentemente a un'infiammazione, il freddo è di grande aiuto. Ma ci sono pazienti che riferiscono anche che mettendo del calore la mano nell'acqua calda provano giovamento, non è che siano strani, semplicemente il calore rilassa i tessuti molli e quindi probabilmente dei muscoli e tutto ciò che corre intorno al canale del carco un po' più rilassato riduce anche la compressione del nervo. Quindi in generale il freddo, però anche il caldo può essere di aiuto. Quindi si può provare l'una o l'altra, la seconda di come reagiamo fisicamente. Invece parliamo di chirurgia, quando è il momento di rivolgersi al chirurgo e quindi capire se è il caso di fare un intervento? Il momento giusto per l'intervento chirurgico è quando i sintomi sono talmente avanzati da non diminuire con i trattamenti conservativi o quando l'elettromiografia o l'esame obiettivo abbiano dimostrato una sindrome del tunnel carpale talmente avanzata per la quale il trattamento conservativo non avrebbe effetto o pochissimo effetto. Allora dottore, la medicina in generale ma in particolare la chirurgia, poi quella sugli arti, sulla mano, ha fatto dei passi da gigante e infatti parliamo soprattutto di chirurgia mini-invasiva. Ci spiega esattamente nel caso specifico in che cosa consiste? Negli anni si è sempre cercato, si è cercato di diminuire il più possibile l'accesso chirurgico proprio perché più piccolo è l'accesso quando possibile, minori sono i danni collaterali tra virgolette ai tessuti circostanti. Potendo usufruire della chirurgia mini-invasiva con strumenti sempre più dedicati si è potuta diminuire anche di molto la lunghezza dell'accesso chirurgico. Questo intervento si può fare fondamentalmente in due modalità o in maniera endoscopica con un'incisione di circa un centimetro o la mini-open. La mini-open è un accesso quindi un pochino più grande che però permette la visualizzazione diretta di tutte le strutture compreso il nervo. È un piccolo accesso come si può vedere qui sulla mano, sono circa due centimetri scarsi. Ecco però onestamente non sembrava neanche una cicatrice, non si vede nemmeno. Sì, ci sono dei reperi chirurgici per i quali si cerca di fare l'incisione in un punto che sia poi meno fastidioso per il paziente, soprattutto perché ci tenevo affinché il signor Cornell fosse qui, ci sono pazienti come il signor Cornell che è un ex ufficiale della Marina Militaria Americana, un paziente con una forte richiesta di attività fisica, quindi era importante che tornassi a un tipo di attività e di vita al 100%. Allora io adesso faccio una domanda a entrambi, la faccio prima a lei, dottore, se è un intervento doloroso? Non particolarmente. E la faccio anche al suo paziente, al signor David, perché volevo sapere, è doloroso? No, no. Dopo solo... È bastato un blando antidolorifico per gestire il dolore della ferita. Benissimo. E allora questa cosa ci rincuora e rincuora tutti i nostri telespettatori che hanno questo problema e che quindi possono ricorrere tranquillamente alla chirurgia mini-invasiva. Io ringrazio il dottor Alessandro Piperno, ringrazio il signor Cornell per essere stati qui con noi. E...